La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, al World Economic Forum ha detto che è tempo che gli europei acquistino insieme l'energia. Ha ragione. Abbiamo bisogno dell'unione dell'energia, che vuol dire a questi comuni una rete unica e una riserva strategica europea. Tutto questo ci permetterebbe di abbassare il costo dell'energia del 50%. Quindi metà del costo della nostra bolletta possiamo considerarlo un costo della non-Europa, un costo del mantenere a livello nazionale una competenza fondamentale come quella dell'energia in una fase in cui questa assume anche una valenza geopolitica straordinaria. È tempo dell'unione dell'energia, è tempo dell'unione della difesa, è tempo dell'unione politica. Per questo serve una riforma dei trattati come hanno chiesto i cittadini nella conferenza sul futuro dell'Europa.